Citazione Intrighi, serie. Nella serie TV il grande gioco che sta spopolando in questi giorni su Sky compare anche Iosem Morino. A modo suo, ovviamente. L'allenatore della Roma viene infatti citato da uno dei protagonisti principali. Francesco Montanari, che interpreta il procuratore Corso Manni, durante una chiacchierata con un ragazzo che sogna di diventare agente di calciatori. Manni cita proprio M.O.U. E' una delle sue massime più famose, come dice Morino. Chi sa solo di calcio non sa niente di calcio Morino e la Roma quando tornano a Trigoria in questi giorni Morino. Citazioni degli altri a parte, è sparito dai social, se non per una breve storia Instagram dedicata alla figlia. Si è rilassato e ripossato lontano da tutti, da domani mattina la Roma riprenderà gli allenamenti a Trigoria. Virgola.